Come di consueto i giovani democratici come organizzazione non prendono posizione all'interno delle primarie del Partito Democratico. Tuttavia sempre più giovani sostengono Sergio Cofferati. È un segnale? Sicuramente è un segnale del fatto che molti giovani interpretano la candidatura di Sergio Cofferati come una candidatura di rottura rispetto a alcune dinamiche che hanno contraddistinto il dibattito del Partito Democratico in questi mesi e pensano che Sergio Cofferati possa rappresentare una discontinuità e soprattutto il fatto che Sergio Cofferati abbia posto un approfondimento alle questioni di merito dal tema dell'ambiente al tema dei diritti, al tema della cultura, del welfare e che possa rappresentare davvero un rinnovamento della modalità di fare politica in questa regione e della modalità di gestire il potere amministrativo rispetto a quello che è stato negli ultimi anni.